329 nuovi casi di covid in Abruzzo su 7.922 test processati tra antigenici e molecolari per un tasso di positività complessivo del 4,1%, il più piccolo tra i contagiati a tre mesi, il più anziano 100 anni. Oggi 54 casi in più nell'Aquilano, ben 105 nel Chietino, 90 nel Pescarese e 72 nel Terramano. Cinque decontagiati invece provengono da fuori regione, mentre per due persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi e sale a 1.911. Del totale odierno, cinque casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 352 guariti. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 12.806, 34 in meno rispetto a ieri. Di questi, 685 pazienti, più 12 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica. Nota positiva, un leggero calo degli ospedalizzati in terapia intensiva. Nonostante quattro nuovi ingressi, i ricoverati in reanimazione sono 6 in meno rispetto a ieri, per un totale di 87 pazienti.